e a proposito di bambini sono presenti qui dei simpaticissimi bambini col meraviglioso costume di nurri sono i componenti più piccoli del gruppo folcloristico 78 di nurri i quali si apprestano ad eseguire per noi e per voi accompagnati con la fisarmonica da franco cocco di assemini su ballo Sarchiao Grazie a tutti. 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 Sono i giovanissimi, i quali si apprestano a seguire sa danza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.